Musica Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo il nostro telegiornale con l'incidente mortale avvenuto in un cantiere a Monopoli. Sono stati travolti da un costone roccioso e due operai di Conversano morti oggi in un cantiere edile a Monopoli. La cronaca è da Francesco Russo. Si chiamavano Vito Germano, 64 anni, e Cosimo Lomela, 62 originari di Conversano, i due operai deceduti nel cantiere edile privato in via Nicola alla Gravinese, a pochi passi dal centro di Monopoli. I due uomini sono stati travolti dal cedimento della parete rocciosa dello scavo al di sotto del manto stradale in cui erano intenti ad installare delle condutture dell'impianto fognario. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei tecnici dello spesa dell'asla di Bari, di carabinieri e polizia. In mattinata il sopralluogo anche della PM della procura di Bari Toscani, che ha parlato di tragedia inaudita. A portare il cordoglio delle città di Conversano e Monopoli ai familiari, delle vittime sopraggiunti sul luogo della tragedia, i sindaci Lovascio e Annese. È un momento davvero triste per noi conversanesi, per la città di Conversano. Due operai conversanesi sono stati coinvolti in questo tragico sinistro e ci hanno rimesso la vita. I temi relativi alla sicurezza sul lavoro ci occupano tutti i giorni. Le salme di Germano e Lomele sono state trasferite al Policlinico di Bari, dove lunedì saranno sottoposte l'autopsia unanime alla richiesta dei sindacati pugliesi di maggiori controlli e misure in materia di sicurezza sul lavoro. Per lo spesa solo l'80% delle aziende è in regola nel barese. È un dovere morale per il vescovo della diocesi Giuseppe Favale. Intanto Conversano proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Andiamo avanti e parliamo di emergenza abitativa. Sono circa 400 i nuclei in difficoltà, 36 gli sfratti imminenti. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale al patrimonio Vito Lacoppola. Sentiamo. Ad oggi abbiamo delle liste dell'emergenza abitativa che sono composte da circa 400 famiglie. Abbiamo avuto un forte incremento di sfratti esecutivi in corso di esecuzione nell'ultimo bimestre. Abbiamo in esame circa 36 casi di famiglie che in questo bimestre hanno l'esecuzione dell'ordinanza esecutiva di sfratto. E per questo motivo ho chiesto e già ottenuto un tavolo interistituzionale a livello prefettizio anche con le parti sociali. Emergenza abitativa. I numeri snocciolati dall'assessore comunale al patrimonio Vito Lacoppola raccontano di un'impennata di casi negli ultimi mesi. Una situazione emergenziale che ha spinto l'assessore a chiedere in sede prefettizia la possibilità di una graduazione delle esecuzioni degli sfratti, 36 quelli più imminenti. Verificando dunque caso per caso la presenza nelle famiglie coinvolte di fragilità, cioè di minori, di anziani o di disabili. Una situazione figlia dell'emergenza Covid, certo, ce l'aspettavamo, commenta infatti Lacoppola, ma l'aumento è in parte da debitare anche al proliferare senza regole di bed and breakfast nel capologo pugliese. Sono tanti proprietari di immobili che stanno scegliendo in queste ore di non prorogare i contratti di fitto per convertire le proprie case in strutture extraalberghiere. Lei ha parlato di un incremento. Quanto secondo lei incide anche questa apertura, se vogliamo, indiscriminata di bed and breakfast? Sicuramente questo è un elemento che sta incidendo e che stiamo ascoltando e recependo anche noi perché i proprietari non vogliono concedere, giustamente, rinvii nell'esecuzione degli sfratti perché hanno altro tipo di progetti per i loro immobili. È un problema che va affrontato forse calmierando, limitando, regolamentando, mi permetto di dire, il settore. La cronaca. Due carabinieri sono rimasti feriti ieri sera a Binetto nel tentativo di bloccare un gruppo di malviventi pronti a rubare un veicolo. Cristina Ferrigni. Hanno riportato lesioni lievi e contusioni. Due carabinieri rimasti feriti nel corso di un inseguimento ieri sera in via stazione a Binetto. L'auto dei militari è stata speronata da quella di una banda di ladri che stava cercando di rubare un'auto, spingendola con un SUV. A cortisi della presenza della pattuglia, i malviventi hanno anche tentato di investire i carabinieri. Da qui l'inseguimento tra militari e malviventi. Per evitare di essere bloccati, i ladri hanno nuovamente diretto la propria auto contro la pattuglia, danneggiando il mezzo. E dopo aver colpito un'altra vettura in sosta, sono finiti contro il muro di una villa in via Sabino. A questo punto sono fuggiti a piedi. I militari rimasti feriti nello speronamento. Sono stati soccorsi medicati al pronto soccorso del Policlinico di Bari e poi di Messi. Le auto della banda sono state sequestrate. All'interno c'erano attrezzi per lo smontaggio dei veicoli e un jammer. Siamo alle notizie dal nostro sito www.telebari.it. Ci colleghiamo con la postazione social dove c'è per noi Italo Cinquepalmi. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra. Allora è morto questa mattina all'età di 78 anni Giuseppe Aquilino, titolare dell'omonima gioielleria di via Sparano. In attività su Bari dagli anni 40, quando inaugurò in corso Vittorio Emanuele, la gioielleria trovò poi spazio su via Putignani prima di stabilirsi in 1963 in via Sparano. La famiglia attraverso le pagine social ha comunicato la temporanea chiusura per lutto dell'attività commerciale. La tua è stata un'impronta preziosa, si legge nel posto come padre, marito, amico, maestro e mentore nel tuo lavoro. Ciao Giuseppe. E andiamo avanti. Il Comune di Bari ha approvato il bando per l'assegnazione dei contributi destinati all'acquisto di biciclette nell'ambito del programma MOVT, finanziato con 400 mila euro di fondi PONMETRO nel piano straordinario di sostegno alla domanda di mobilità sostenibile. Il bando prevede l'erogazione dei contributi a tutti i maggiorenni residenti o dimoranti nel Comune di Bari e degli studenti che attestino di essere iscritti a una scuola o un ateneo ubicato sul territorio comunale. E chiudiamo. Nel cuore del Parco Nazionale dell'Altamurge è nato un nuovo sentiero, un percorso per i povedenti nell'area della dolina Treppaduli. È lungo tre chilometri e garantisce l'accessibilità ampliata grazie all'assenza di pendenze, ha una carrozzella di nuova generazione con assistenze elettriche, targhe, tattili, braille, installate lungo il percorso. L'inaugurazione del sentiero si svolta nella giornata europea dei parchi che si celebra quest'anno con lo slogan Costruire sulle nostre radici. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona serata. Grazie Italo, noi andiamo avanti e parliamo di degrado nelle aree di accesso alla stazione di Torre Quetta. La segnalazione arriva da alcuni cittadini, vediamo il servizio di Roberto Mangi. Il cartello della stazione si intravede tra le sterpaglie e diversi turisti attraversano i viali verso il sottopassaggio come degli esploratori nella giungla, stazione ferroviaria di Torre Quetta, mentre all'interno degli uffici della regione in corso la manutenzione del verde, nella parte esterna che porta i binari, probabilmente nessuno mette mani dalla scorsa estate. A chiedere aiuto a Terebari sono alcuni residenti già pronti ai disagi che arriveranno con l'inizio della stagione estiva. In strada Zuccararo, infatti, sono esasperati prima ancora di cominciare. Il primo problema riguarda proprio l'accesso alla stazione, soprattutto alle abitazioni, una quindicina di nuclei abitativi che si trovano a fianco del palazzo della regione, al di là dei binari. Nei giorni di maggiore afflusso la sosta selvaggia rende quasi impossibile il transito delle automobili. Del resto, gli stalli per le auto regolari previsti sono appena otto, di cui due riservati ai disabili. Parcheggiano ambi i due lati, non solo un lato, di cui ci impediscono anche di uscire di casa. Per cui, se il signor sindaco si fa una bella passeggiata sabato sera, domenica, o anche in settimana quando c'è qualche manifestazione a Torre Quetta, si renderà conto che non riuscirà neanche ad entrare dalla punta della strada. Per la posizione in cui ci si mette, se noi abbiamo bisogno di chiamare un'ambulanza o una qualsiasi cosa di intervento, non abbiamo la possibilità di far rientrare. Resta poi il problema della manutenzione a lungo al centro di uno scaricabarile tra comune, regione e ferrovie. Appurato che la cura delle aree a verde spetta proprio alla ripartizione competente di palazzo di città, dal comune, dopo la nostra segnalazione, hanno assicurato un intervento tempestivo. Fino a quel momento il biglietto da visita della stazione ferroviaria di Torre Quetta sarà quello di una città verde anche troppo. C'è un po' di degrado, avrebbero già dovuto farlo, secondo me, già dal primo maggio questa sistemazione. Oltre che tutto l'inverno, appunto perché c'è una stazione ferroviaria, voglio dire, la gente soffisce di questo treno sempre, anche d'inverno. Parliamo di educazione alla legalità. A poche ore, dall'anniversario della strage di Capace, abbiamo interrogato chi dell'argomento se ne occupa quotidianamente. Sentiamo le parole di Don Giuseppe Russo, direttore dell'oratorio salesiano del Redentore. Purtroppo tante volte è molto semplice sottostare alla logica che ti fa arrivare anche un po' più di soldi in tasca più facilmente. Tante volte tu vedi dei ragazzi che ti frequentano l'oratore in modo sereno e a un certo punto li vedi che si allontanano, lasciano lo sport, cambiano gruppo di amici, non li vedi più in piazzetta, iniziano a fare altri giri e capisci che poi hanno la scarpa nuova, il giubbino nuovo, iniziano a vestirsi in modo diverso. Togliere i segnali. E allora capisci che li stanno entrando in un altro circuito che purtroppo propone loro qualcosa che sul momento sembra molto più utile, però poi li vedi che si spengono, iniziano ad avere più paura, perdono le loro relazioni, perdono le loro amicizie. Non è facile, purtroppo di situazioni ce ne sono spesso, frequenti. Fa tradurre nella pratica la parola legalità, nel senso che noi pensiamo alla legalità sui grandi temi, quindi questi grandi uomini che hanno donato la vita, però poi nella vita di ogni giorno, quando si ha a che fare con un ragazzo, quando si fa colazione, quando si gioca a calcio con un ragazzo, come si traduce poi nella realtà questo parolone che è legalità? Rispetto. Rispetto della propria dignità e della dignità degli altri. Punto. La legalità finisce, inizia l'illegalità, quando io ti schiaccio. Nella piccola cosa o nella grande. Nella partita a calcio, per farti vedere che sono più forte, faccio un fallo grosso, così tu inizi ad avere paura di me. In mezzo alla strada inizio a impormi in un certo modo, perché così tutti mi rispettano. Nel momento in cui io invece, ai ragazzi cerchiamo di veicolare questo, se tu rispetti te stesso e la tua dignità, e capisci che pure l'altro bisogna di essere rispettato nella sua libertà, nella sua dignità, tu vivi meglio. Il Bioeconomy Day ha fatto tappa al Politecnico di Bari. Tre le tavole rotonde per discutere di sostenibilità tra studenti e imprenditori. Letizia Giostra. Rendere lo sviluppo sostenibile è un tema di attualità per portare l'Italia su un sentiero più green. È solo uno degli obiettivi trattati durante il Bioeconomy Day, che dopo un lungo tour tra le città puiesi, oggi ha fatto tappa al Dipartimento di Architettura del Politecnico di Bari. L'evento, organizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, ha visto la partecipazione di molti studenti e di esponenti del settore che si sono ritrovati insieme tra i banchi dell'Aulamagna. Tre le tavole rotonde che diventano un'occasione di dialogo tra università, il settore imprenditoriale e gli enti coinvolti nella programmazione del Bioeconomy. L'obiettivo resta quello di richiamare l'attenzione locale e nazionale sulle problematiche e le opportunità connesse al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile per un futuro più green per le nuove generazioni. Ci sono praticamente le due istituzioni che devono creare green manager del futuro, perché come facciamo a prendere i nostri rifiuti organici, stiamo parlando di questo, no oggi, e farli diventare risorsa, creare start-up, creare lavoro utile, partendo dai giovani, dai giovani che devono averne le competenze e devono capire anche quali sono le esigenze di un territorio. Quindi sinergia fra università, fra le imprese, ma anche con la pubblica amministrazione e, diciamolo importante, una norma sulla bioeconomy, quindi sulla bioeconomia, che possa quindi dare le basi per poter affrontare il futuro. Siamo alle notizie dalle provincie pugliesi. Partiamo da Brindisi, quella cronaca con l'omicidio del 19enne Paolo Stasi, Stasi indagata, anche la madre del giovane. Fabio Sedino. Dopo mesi di indagini per il caso Paolo Stasi, sembra essere arrivati ad una conclusione. Il giovane fu ucciso a bruciapelo la sera del 9 novembre 2022 davanti alla sua abitazione a Francavilla Fontana, in via Occhi Bianchi. Ucciso per debito non pagato 5.000 euro mai versati. Sarebbe questo il movente dell'omicidio. Ad aiutare le indagini sarebbero state sicuramente l'analisi del telefono cellulare di Paolo Stasi, effettuata nell'immediatezza del delitto che ha fornito degli elementi che a stretto giro hanno indirizzato gli investigatori verso i due sospettati e quindi verso la pista della droga, oltre a riscontri di fondamentale importanza arrivati dalle analisi delle immagini di ripresa delle telecamere installate nei pressi dell'abitazione del 19enne, dall'intercettazione ambientale dei dialoghi fra gli stessi sospettati e le rispettive fidanzate. Adesso quella dovevamo fare. Quella frase rientra in una conversazione che, secondo il GIP, sarebbe emblematica della volontà di uccidere anche la madre di Paolo Stasi dopo l'omicidio del figlio. Il termine quella sarebbe infatti riferito alla donna. Per fare si intenderebbe sparare. Il retroscena emerge dalle 142 pagine di ordinanza di custodia cautelare a firma del GIP del Tribunale di Brindisi Vittorio Testi, notificate ieri mattina ai due giovani e ad altre sei indagati. Fra gli indagati a piede libero figura anche la madre di Paolo Stasi, accusata di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. Andiamo ad Altamura per parlare dei dissuosori installati sulle strade principali. Per migliorare la sicurezza stradale, l'iniziativa nasce dal comando di polizia locale che ha installato questi limitatori di velocità, ma sono stati presi di mira e di velti. Onofio Bruno. Stop all'eccesso di velocità. Ad Altamura sono stati installati dissuosori sulle principali strade, ma la novità è stata accolta con ostilità, con ripetuti atti vandalici e sradicamenti dei dispositivi. Il comando di polizia locale non demorte e prosegue sulla linea della fermezza. La sperimentazione non è stata molto facile, perché sin da quando sono stati installati ci sono stati dei cittadini che mal hanno accolto la presenza di dissuosori di velocità che erano stati posizionati, lo ribadisco, al sol fine di ottenere la riduzione della velocità. Sono stati posizionati su strade nelle quali avevamo rilevato incidenti stradali anche con esito mortale e quindi l'interesse principale dell'ente è quello di migliorare la sicurezza stradale. In diversi momenti sono stati divelti e sono stati ripristinati. La maggior parte dei cittadini ha imparato a rallentare in quei tratti. Stiamo pensando di installare delle telecamere a ridosso proprio perché siano individuati i trasgressori di questi atti vandalici. Sicuramente l'interesse principale è quello di migliorare la sicurezza stradale. Il comando è impegnato anche in corsi di educazione stradale per insegnare ai giovani quelle che sono le norme del codice della strada il tutto finalizzato a garantire e migliorare la sicurezza stradale. Andiamo adesso nel Foggiano per parlare del Gargano Food Fest che si terrà a Regnano Garganico il 2 e il 3 giugno prossimi con iniziative di ogni genere e aperte a tutti. Ce ne parla Nicola Serracino. È alla sua prima edizione ma promette di diventare uno degli eventi più importanti e rappresentativi del Gargano. Si chiama Kunz Gargano Food Fest e si terrà a Regnano Garganico il 2 e 3 giugno con eventi di ogni genere ed aperte a tutti non solo a livello enogastronomico ma anche sociale, culturale, naturalistico e artistico. Regnano punta a diventare anche un centro di eccellenza da questo punto di vista per l'intero Gargano? Deve diventare un centro di eccellenza. Quest'anno parte come una forma sperimentale di festival ma vogliamo ampliarla, vogliamo dare altre opportunità vogliamo che diventi un centro sociale, un centro di arte, di cultura un centro dove il cibo è sinonimo di qualità. Obiettivo? Evidenziare l'importanza del cibo nella cultura locale come elemento centrale della tradizione e della vita quotidiana capace di attirare i turisti e promuovere l'economia del comparto agroalimentare. Gli assoluti protagonisti saranno i prodotti tipici del Gargano come la muscisca, la salicornia, gli asparagi e il caciocavallo podolico. Ed eccoci all'approfondimento di questa sera Fare sistema per le imprese le rende sicuramente più competitive e questo è il tema di cui ci occupiamo questa sera lo facciamo con Carlo Pellicola, vicepresidente nazionale di Confimi Meccanica Italia Buonasera e bentornato Buonasera a voi tutti E con Nicola Palaciano, presidente di AMI, associazione Murgiana Imprenditori Buonasera anche a lei Buonasera a voi Partiamo da lei, Carlo Pellicola è anche rappresentante della sua azienda Molitecnica Sud un'azienda leader nel settore dell'agroindustriale voi sapete quanto sia importante fare sistema credete nell'associazionismo sia come Molitecnica ma anche come Confimi ovviamente perché si ritrova in questo panorama più nazionale Sì esatto, praticamente è una delle decisioni da quando è nata l'azienda e da quando poi si è ampliata col gruppo, con le altre aziende è sempre una decisione fondamentale quella di fare un'iscrizione all'associazione di categoria in questo caso Confimi perché questo sistema di associarsi presso le confederazioni ti permette di avere un braccio in più in buona sostanza perché ci aiuta noi aziende a socializzare tutte le problematiche che possono essere quelle aziendali ma anche le problematiche che possono argomentare dalla parte politica dalla parte burocratica, dalla parte di sistema a livello nazionale italiano Diventa anche un'occasione di confronto con altre realtà per confrontarsi sui problemi principali? Anzi, devo dire la verità che poi si arriva anche a investire nelle progettualità di ricerca e sviluppo con settori addirittura che magari stando da soli all'interno della propria azienda nessuno può mai immaginare si può parlare addirittura della meccanica che si unisce insieme alla biomedica si può parlare della meccanica che si unisce insieme al mondo dell'industria alimentare dunque innovare, cercare nuovi sistemi, nuovi prodotti, nuove tecnologie per affrontare tutto quello che è il panorama però industriale Ad essere più competitivi ovviamente Assolutamente, questo è un argomento che purtroppo è tutti i giorni sui tavoli E' la battaglia delle battaglie E' la battaglia delle battaglie, sì 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 Nicola Palaciano, presidente dell'associazione Murgiane Imprenditori Un'associazione neonata che però conta Siete partiti con 19 iscritti Adesso siete già saliti a 48 L'obiettivo è quello di allargare la platea degli iscritti Diciamo non abbiamo fretta di allargareci Ma vogliamo crescere Faccio l'esempio come cresce un corpo umano Deve crescere in tutte le parti E non che una parte cresca di più dell'altra Quindi l'obiettivo è quello di mettere insieme Prima di tutto giovani L'obiettivo principale è raggruppare quando più giovani possibile Quindi già i nostri figli che hanno deciso di seguire i nostri Non tutti i figli, ne ho tre Di cui uno ha scelto l'agricoltura Che ne fa parte anche l'associazione dell'agricoltura E gli altri due ragazze Una già fa parte della mia azienda E l'altra quest'anno si deve diplomare Sta pensando se continuare Io sto consigliando di continuare l'università Vediamo Comunque ritornando all'associazione L'associazione l'obiettivo principale è quello di mettere insieme Quindi un primo obiettivo che 19 aziende hanno deciso di mettersi insieme Abbiamo impiegato più o meno un anno Ma va bene lo stesso Ma dal 30 marzo 2023 a oggi siamo già diventati 48 Un bel numero di collaboratori che ognuna delle aziende ha Un fatturato abbastanza importante Il problema è che vogliamo essere ascoltati Dalle amministrazioni che seguirà Quindi noi da martedì prossimo avremo il sindaco di Altamura Che ci deve dare un minimo di ascolto Per poter dare un nostro contributo A poter dare una svolta a questa città ricca, bella, molto lavorativa Che vuole veramente crescere E fare cose che negli anni passati L'hanno fatto da solo gli imprenditori Lo vorremmo fare insieme all'amministrazione Quindi collaborare prima di tutto con l'amministrazione comunale di Altamura Poi diciamo confrontarci anche con la regione E possibilmente arrivare anche al governo centrale E chi dice anche in Europa Perché sono livelli istituzionali Che inevitabilmente incidono sulla vita di ognuno di noi Tanto più ovviamente per chi fa impresa Tra l'altro lo fate in un territorio Che è particolarmente fronido Anche dal punto di vista delle idee Perché ricordiamo che è proprio la zona della Murgia E' stata ribattezzata la Murgia Valley Proprio come dire Testimonianza di quanto sia effervescente Il ruolo degli imprenditori in questo territorio L'associazionismo fare sistema E' come dire anche una stagione nuova Per gli imprenditori del Sud Perché ricordiamo che proprio negli anni passati Si era sempre sottolineata questa nota stonata Delle imprese del Sud che non riescono a fare sistema E che per questo erano diventate meno competitive Abbiamo superato quella fase? Stiamo cercando di iniziare a superare Ce l'abbiamo messa tutta Ce la metteremo tutta Perché l'obiettivo è quello veramente di superarla Perché solo stando insieme Si potrebbe ottenere Dei risultati che vanno bene A più aziende A più persone Non a pochi Perché l'unione E i problemi non sbagliano Fanno forza Quindi raggruppare delle idee Dando una scaletta Diciamo Di richieste Quindi noi abbiamo Una priorità che Altamura A livello di sicurezza Siamo messi male A livello di viabilità Non male Malissimi E poi la burocrazia La burocrazia Noi imprenditori Noi siamo dinamici Noi quando un nostro cliente Ci chiede Noi rispondiamo Quasi prima che termina la richiesta Quindi non è che vogliamo questo Ma vogliamo essere ascoltati Quindi l'ascoltare È qualcosa Che potrebbe aiutare Non solo noi imprenditori Perché noi dove siamo arrivati Siamo arrivati con le nostre forze Abbiamo veramente una forza Di un personale che ci segue Altamura Parlo di Altamura Ma di sicuro ci sono altre città Paesi che sono come Altamura Tanti lavoratori Ma noi Altamura È una città di imprenditori E di grandi grandi collaboratori Che ci seguono E grazie a loro Che noi veramente Riusciamo a rispondere In tutto il mondo Perché Altamura Com'è Non è solo la città del pane Ma anche la città Della metalmeccanica Dell'imbottito Dell'edilizia Di tutto quello Dell'agricoltura Perché a livello dell'agricoltura Abbiamo tante tante ricchezze E quindi abbiamo bisogno Di fare Un gruppo Ecco Fare gruppo Significa anche Rendere più ricco Un territorio Perché la voce Di più imprenditori Ha sicuramente Un maggior peso Rispetto a quello Dei singoli E a cascata Tira dentro Anche tanti temi Che sono quelli Del risvolto occupazionali Se un territorio Cresce Se le imprese Crescono E anche Evitare La fuga Dei cervelli Che è un altro tema Con cui abbiamo dovuto Convivere In tutti questi anni Adesso forse Con un territorio Più attrattivo Significa Far rimanere Qua i giovani Sì In effetti Come confimi Soprattutto La sezione meccanica Perché vede Questa fuga Di cervelli Quotidianamente Si è partiti Subito Con un grande Progetto Con le scuole E dunque Stiamo cercando Di interagire Con tutte le scuole Professionali Per cercare Insomma Di tirare In ballo Ed in gioco Nella mente Del ragazzo Questa ispirazione Vocazione Anche A lavorare Perché in realtà È una parte Che credo Che sia Scomparendo Qui in Italia E i casi Voglio dire Li sappiamo I numeri Li sappiamo Perché manca Il personale E dunque Fare appunto Anche vita Di associazione Ecco perché Invito tutti Gli imprenditori Tutti i giorni Non mi stancherò Mai di invitare Ad associarsi Non a caso Anche quest'ultimo Anche se Il nostro gruppo Ci vede Impegnati In confimi Però Ha dato Subito adesione All'AMI Perché appunto Sentiamo Questa necessità Locale Questa necessità Murgiana Di rimanere Nel territorio Per le grandi sfide Di questo territorio Perché è un territorio Come diceva il presidente Palaciano Ricco E appunto Stare insieme Si fa squadra Allora Siamo in chiusura Siete già Al lavoro Avete già Come dire Tanti impegni Da onorare In questi giorni Allora Il lavoro A noi non ci fa paura Noi abbiamo Non ci stanchiamo mai Cioè Riusciamo sempre A dare il massimo Perché vogliamo Che questo massimo Vada distribuito Su tante persone E non solo Su poche persone Un massimo Che non si disperda Tra i vari vicoli Della burocrazia No? I vicoli ciechi Della burocrazia La burocrazia è qualcosa Che bisogna Diciamo La pandemia Un po' di burocrazia L'ha un po' sciolta A livello di certificati Di documentazione E' diventata più fluida Vogliamo che tante cose Divendano più fluida E diciamo che Altamura Ha anche bisogno Perché Siamo anche Molto messi male Come zona industriale La zona industriale E le industrie E' un segno Di ricchezza Di una città Oltre alla cattedrale Ci vuole anche L'industria E allora Siamo in chiusura Non mi resta che Ringraziare Di quella paraciano Presidente dell'Ami Lunga vita all'Ami A questo punto E buon lavoro E grazie anche a Carlo Pellicola Vice Presidente nazionale Di Confimi Meccanica Italia Grazie a voi Per essere stato con noi E grazie a voi Per averci seguito Vi auguro un buon proseguimento Di serata Amici Trevi Meteo Bentornati a questo aggiornamento Delle nostre presioni Per la giornata di giovedì Che vedrà in partenza Un po' di instabilità Nelle regioni settentronali È residuo Di quel passaggio temporalesco Che transiterà Sul nord Italia Tra fine di mercoledì E appunto Prima ore di giovedì E poi vedremo tra poco Anche un po' di variabilità Sulla dorsale appenninica E così Se controlliamo la nuvolosità Notiamo queste nubi A inizio giornata Su parte del nord Special nord-ovest E poi Nelle ore centrale del giorno Temporali che si formano Sull'appennino Per poi riversarsi In parte Anche verso le coste Del medio alto tirreno Lo capiamo anche Dalla previsione Delle precipitazioni Guardate queste macchie azzure Da prima sul nord Italia Special nord-ovest Poi si accendono Come vi dicevo Dei temporali Lungo la dorsale appenninica Che raggiungeranno In parte Anche le zone costiere Di Lazio E Toscana Quindi in definitiva Ci attendo mercoledì Che ci regalerà Comunque ampie Già di sereno Ma con un po' di variabilità A inizio giornata Sulle regioni di nord-ovest E poi Nelle ore pomeridiane Temporali Sull'appennino Centro settentrionale E localmente Anche su Lazio E Toscana Dall'estero del paese Si va via lisci Con solo qualche nuvola Di passaggio E temperature Che restano comunque In gran parte d'Italia Molto miti Per tutte le tali Sulle vostre località Consultate L'app gratuita Di Trebi Meteo Di Trebi Meteo